Oggi parleremo delle melanzane in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista per l'edizione dedicata alla rubrica nutrizione e benessere. Allora dottore, le melanzane perché mangiarle, quale la stagione per mangiarle e poi le proprietà? Sì, allora mentre la settimana scorsa abbiamo parlato appunto dei peperoni, oggi parliamo di un altro ottaggio della stessa famiglia appunto delle solanacee che saranno di stagione verso fine aprile, maggio, quindi tra poco e inizieranno appunto a colorare le nostre tavole. Ce ne sono tantissime varietà, si distinguono essenzialmente per la forma che possono essere più o meno allungate, più tondeggianti e ovviamente dal colore della buccia. Ciò che le caratterizza appunto questo colore viola che è dato da alcune sostanze antiossidanti che si chiamano antociani e sono molto ricche di acqua e di fibre. Apportano poche calorie, 100 grammi di melanzane crude apportano solo 18 calorie, però tenendo presente che le possiamo consumare solo dopo la cottura, con la cottura appunto una parte di quest'acqua viene persa e quindi aumentano leggermente le calorie ma rimangono sempre molto poche perché per 100 grammi raggiungiamo circa 40 calorie. Contengono anche sali minerali, soprattutto calcio, potassio, magnesio, ferro e vitamine del gruppo B, vitamina C e una piccola parte di vitamina K, però teniamo presente sempre che con la cottura vengono in gran parte inattivate. La grande ricchezza di fibre le rende ottime per raggiungere il senso di sazietà, per questo insieme anche alle poche calorie sono spesso inserite all'interno delle diete, ma le fibre aiutano anche a regolare il transito intestinale e a ridurre un po' l'assorbimento degli zuccheri. Contengono potassio, quindi hanno anche un buon effetto depurativo, drenante, effetti vengono utilizzati anche in ambito cosmetico e tra gli antociani di cui abbiamo detto sono molto ricche, quella che dà il colore caratteristico viola e che è più rappresentata all'interno della buccia è una molecola che si chiama nasunina che è molto studiata ultimamente per le sue proprietà di protezione sui vasi sanguigni, per le grandi capacità antiossidanti, quindi di combattere i radicali liberi, ma anche per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. E infine le melanzane hanno una serie di sostanze che sono molto simili alla cinarina, quella che è presente all'interno dei carciofi di cui abbiamo parlato e quindi si pensa che possono avere lo stesso effetto epatoprotettore. Ha detto che contiene vitamina K, quindi a chi è sconsigliata? Sì, contengono vitamina K, però non una quantità eccessiva per cui diciamo se non se ne fanno dei grossi eccessi anche per chi diciamo fa una terapia anticoagulante non rappresentano un problema. Le altre controindicazioni invece riguardano ovviamente la presenza della solanina che è un antinutriente che è potenzialmente tossico però con la cottura viene in gran parte eliminata, anche se in alcuni soggetti predisposti può causare un po' di disturbi gastrici o anche cefalea. Devono fare attenzione chi è allergico ovviamente a questo ortaggio anche perché contiene delle ottime quantità di stamina che quindi favorisce le reazioni allergiche. Infine contengono ossalati e quindi in soggetti predisposti possono dare problemi di calcoli renali. E infine la grande ricchezza di fibre soprattutto nei soggetti più sensibili come coloro che soffrono di colite possono dare un po' di disturbi. Per mantenere integre tutte le proprietà che ci hai elencato come bisogna prepararle? Sì allora ovviamente dato che le possiamo mangiare solo cotte i metodi di cottura da preferire sono quelli al vapore, al forno, grigliate anche perché la melanzana per le sue caratteristiche tende ad assorbire anche molto il condimento e quindi sia a livello dietetico ma anche per mantenere le proprietà dobbiamo comunque evitare le fritture o in padella mentre invece preferire dei metodi di cottura più semplici che nemmeno in parte ne permette di conservare le proprietà. Grazie dottore, grazie anche ai nostri fedeli telespettatori. Continuate a scrivere, continuate a scrivere anche alla mail del dottor Andrea Ricci. Vogliamo ricordarla dottore? Sì, nutrizionericci.chiocciolavirigilio.it Grazie, buon fine settimana a tutti. Arrivederci alla prossima settimana con la rubrica Nutrizione e benessere. Grazie a tutti.